E bella a tutti ragazzi, bentornati su questo video, però questa volta andiamo su Clash Royale. Come potete vedere, ora che si carica, io sono Arena 8, sono a 2630 coppia, cioè Arena 9, che viene lasciata tra 5 giorni. Questo è il mio clan, leggenda del clan, vi consiglio di entrare perché si dona molto e sono quasi sempre attivi. Infatti guardate ore e ore di pranzo, perfino ce ne sono 4 attivi. Questo è il deck che uso io e mi trovo abbastanza bene. Nei commenti? Consigliatemi sempre qualche deck buono, cioè che a voi piace. Io non l'ho mai shoppato sul mio account, anche se ho la possibilità, però non voglio perché non mi piace. Allora ragazzi, io ho il tronco, il mastino al 2, la scintilla e il miniatore. Il miniatore e il boule del torneo di dire vittorici e gemme. La scintilla della corona, il primo mastino nel boule omaggio, il secondo è il boule del clan. E il tronco e il boule leggendario, ovviamente l'ho trovato nella battaglia. Oggi andiamo a fare soltanto una partita, sempre con quel deck che vi ho fatto vedere. Contro un giapponese che non so pronunciare il suo nome, vabbè, dettagli. Io ho sbagliato. Lui metto i barbari scelti per bloccare il suo domatore, anche se due colpi ce li dà. Ah no, uno, scusi. Eh, scusi. Scusate. Un colpo, dai, barbari scelti. Un colpo, guarda, è un masto proprio grandissimo. Ragazzi, comunque, i barbari scelti sono la carta più forte di Clash Royale che io abbia mai visto. Anche se fra poco la di potenza è al 100%, perché, ragazzi, è troppo forte. Cioè, è fortissima. Spero che questa partita la vinco e non fare fail al primo video che faccio di Clash Royale. La principessa non la prendiamo, no. Ragazzi, come ti fa metterla? Perché no? Che dico. Eh, raga, scusi... Scusate, raga, un attimo, mia sorella. Sempre le solite sorelle. Oddio, il buon barolo. Ok, non c'è da alcun colpo. Perfetto. Oh, raga, scusate per mia sorella, perché sa che mio cugino che è piccolo e fa sentire le canzoni. Scusate, raga. Era l'unico momento per registrarti. Poi dovevo studiare. Eh, abbiamo messo... Cioè, diciamo così, togliamo tutta questa urla di scheletri. Ora, no, il buon barolo, il buon barolo, il buon barolo, il buon barolo, il buon barolo. Ok, raga, siamo quasi in pareggio perché mancano... Oddio, come lo fermo ora? Raga, scusate le urla, proprio perché... Mettiamo il tronco? Raga, forse abbiamo fatto la torre. Abbiamo fatto la torre. Scusate, mia sorella, proprio la solita... Raga, scusate, no... Raga scusate sempre però Le sorelle Oddio mi ha fatto la dure raga Non è possibile Zapp 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 Zappiamo Raga gliel'abbiamo fatto Giusto in tempo Giusto in tempo raga Che culoni che abbiamo avuto Anche se mia sorella Però mi ha distratto Che raga secondo me questa partita La vinciamo al 100% Oddio raga non ci credo Non ci credo Raga 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 Oddio E raga l'abbiamo vinta Mamma mia Raga l'abbiamo vinta Che bulle ci dà Vabbè buono Sempre meglio di quello al 100% Raga questo video può finire Qui alla prossima